Quella di ieri è stata una giornata densa, ricca di appuntamenti e variegata nel contesto dell'open day del secondo circolo didattico. Sì, ieri abbiamo dedicato la giornata all'apertura della scuola ai genitori e a tutto il territorio per venire a visitare i locali e conoscere la nostra offerta formativa, vedere i laboratori, tutto quello che la scuola offre ai bambini che si iscrivono nella nostra scuola. Quale impressione ha destato la scuola ai genitori che sono venuti a visitarla? I genitori hanno avuto molto interesse nel visitare la scuola, nel sentire qual è la nostra offerta formativa e sono rimasti molto contenti. Perché dovrebbero scegliere il secondo circolo didattico? Noi presentiamo quello che possiamo dare, poi saranno loro a scegliere. Una scuola quindi che si apre a 360 gradi sul territorio preside? Sì, è chiaro questo, si deve aprire la scuola, la scuola si deve aprire al territorio. Oggi tante iniziative, tanti incontri, tanti appuntamenti, il più importante dei quali qual è stato? Oggi abbiamo avuto tante iniziative, sono stati aperti i laboratori, i genitori hanno visto i bambini come lavorano, come portano avanti i vari progetti curriculari e si sono fatti un'idea di come si lavora a scuola. Soprattutto l'incontro con il dirigente scolastico e anche col colpo docente. È chiaro questo, è importante che il dirigente accolga tutti i genitori e i bambini, è chiaro questo.